Per quanto riguarda Black Lives Matter, non mi sento di parlare, di dire sia un movimento decoloniale sia un movimento femminista, quello che vedo è che sicuramente è un movimento che sta dentro la discussione di come la questione della razza sia una questione che non può essere scinta dal modello di sviluppo americano e anche dalla questione della cittadinanza, ma quello magari brevemente ci torno dopo. E' una questione che fa vedere anche come, mi sembra che Black Lives Matter ha prodotto anche tutto un ragionamento abbastanza interessante per esempio sugli spazi urbani, su come ci sia un modello anche di spazialità che ha un'eredità, che tiene insieme tutta la questione dell'organizzazione economica, dell'organizzazione del lavoro che passa attraverso le linee della razza. E il ragionamento sugli spazi urbani è un ragionamento centrale, per esempio, in chi ha lavorato sulla questione coloniale. E penso anche, ma questo forse ho l'influenza anche dei dibattiti che si facevano ieri, dei casi locali, però un discorso sulla violenza è anche un discorso sul ruolo, sulla violenza macia, macista, quindi penso che quello sia anche un elemento che entra dentro, che va a toccare anche una serie di nodi. Per quanto riguarda la questione della cittadinanza, io, allora, nel senso che se ti dovessi rispondere semplicemente da, come dire, se fossimo tipo un dibattito accademico, c'è tantissimo dibattito su come la questione coloniale riattualizza la questione della cittadinanza, però per me un elemento molto utile e centrale è che tutta la questione della cittadinanza occidentale si è declinata attraverso questo fatto che tu hai l'accesso a una serie di diritti perché sei produttivo, cioè nel senso che il lavoro qua o la tua integrazione nelle dinamiche di sviluppo economico, magari nei contesti postcoloniali, sono il vettore attraverso cui tu in qualche modo entri nella questione, entri in quella che è la cittadinanza bianca perché poi in realtà il tuo lavoro sfruttato e mal pagato non ti fa entrare nella cittadinanza se invece sei di un altro colore, quindi hai questo doppio rapporto, cioè la cittadinanza si articola attraverso la logica del confine che decide chi sta dentro, chi sta fuori e che ha un confine basato molto sulla pelle e su questa sua articolazione sulla centralità del lavoro, del lavoro produttivo e secondo me riuscire a scardinare questa logica è un elemento che va tenuto presente perché non deve essere riveicolato per esempio nel momento in cui si fanno le lotte, a mio parere, sulla salute sull'accesso e questo mi lega sulla questione degli esempi perché di esempi ce ne sono tantissimi nel senso che ci sono appunto quelli che citava Salvo, gli esempi delle economie popolari, delle mutuoassistenze, esempi anche di finanziarizzazione comuni, cioè finanziarizzazione è un termine negativo però come dire di capacità di creare reti economiche locali slegate ma a mio parere per quello che riguarda proprio la mia esperienza personale per me è un esempio importante è stata la maniera in cui per esempio quando ero appunto in Guatemala e in Messico le lotte, i conflitti contro le miniere, contro le miniere sartiviste sono riuscite ad articolare partendo da una lotta che era noi non vogliamo la miniera perché la miniera inquina l'acqua e la miniera ci toglie il lavoro che noi facciamo in particolare, la capacità di coltivarci, però hanno articolato in maniera fortissima una critica diciamo appunto al modello di cittadinanza, al modello di Stato e ai modelli di sviluppo e quindi sono andati poi anche a questionare degli elementi centrali che sostenevano questi tre nodi Stato, sviluppo, cittadinanza che sono intanto l'elemento giuridico, cioè come si decidono le cose e a che livello si declina, quando è che un territorio può decidere su di sé, quando non può decidere, sono andati a toccare questi nodi qua e chi decide dove si investono, dove si fa investimento, quindi magari non è un esempio così pratico ma secondo me è un esempio forte perché andare a guardare come attraverso appunto delle manifestazioni, degli slogan, delle contaminazioni anche tra per esempio movimenti rurali, movimenti urbani si è riusciti a politicizzare dei nodi molto, secondo me molto centrali. finisco con la questione del privilegio, allora non capisco la questione, non lo so, io penso che individuare il privilegio, come dire, non è una parola che, non è che voglio insistere, non ci tengo particolarmente alla parola, però penso che il privilegio sia anche una questione di materiale, di accesso a una serie di cose o di non accesso e a volte nominarlo penso possa essere utile e per esempio è stato molto utile il discorso del privilegio e qua chiudo sulla questione nel fartacere, le critiche un po' snob da sinistra sul Black Lives Matter di quando si voleva spiegare agli altri come ci si ribella, quindi insomma ci sono state tutta una serie di interventi abbastanza interessanti di andare a dire ma forse non sta a chi ha goduto di una serie di privilegi andare a spiegare a chi non li ha goduti in che modo esprimere la rabbia, quindi... In quel mondo che viene descritto, diciamo, dal lato della colonia, dal momento in cui nasce il dibattito sulla decolonialità, il pensiero decoloniale, in realtà quasi tutto fra l'Antile dell'America Latina. Il racconto della modernità è quello di un sistema che inventa gerarchie e le inventa, le riproduce e le riproduce all'infinito. C'è un apice di questa gerarchia e poi ovviamente si creano e ricreano tutta una serie di schemi. È ovvio che il concetto della categoria di privilegio sta là dentro, cioè sta nella garanzia data a gruppi via via sempre più ristretti di avere possibilità, capacità economiche, diritti diversi dagli altri. È ovvio che non ci si può riconoscere là dentro. C'è un primo passaggio di decolonizzazione, di autoriconoscimento dell'appartenenza a quello schema, a quelle gerarchie. Gerarchie che in effetti sono anche la base dell'idea della cittadinanza europea. Io poco fa parlavo del miraggio dell'inclusione nel senso che è sempre stato un miraggio. Anche questo è un racconto che va destrutturato. È sempre stato un miraggio perché è sempre stata l'idea che tutti potessero beneficiare della ricchezza. C'è stata una fase veramente breve in termini di anni in cui una quantità un po' più ampia della popolazione dei paesi delle aree ricche si è sottratta e ha ipotizzato di potersi sottrarre per più generazioni allo stato di necessità. E se la andiamo a rileggere è una storia veramente breve che poi viene ribaltata subito ed è quella in cui ci troviamo e in cui a conti fatti l'assoluta maggioranza della popolazione del pianeta sta là dentro, sta oltre quelle linee. Come funziona il sistema? Il funziona il sistema perché il sistema funziona perché produce e riproduce gerarchie e lo ha fatto in maniera esplicita e deflagrante per esempio nel campo del lavoro negli ultimi 50 anni nell'età neoliberale. Cioè frammentare all'infinito e fare in modo che la costruzione e la creazione dei campi di ricomposizione fosse difficilissima. Black Lives Matter in realtà è qualcosa di molto più complesso ovviamente di come è stato rappresentato nel racconto esterno, fortunatamente non all'interno dei nostri dibattiti, in cui coesistono, devo dire la verità, una pluralità di rivendicazioni e di esperienze, tra l'altro anche con grandi differenze territoriali all'interno degli Stati Uniti e in cui per la prima volta dal mio punto di vista, almeno rispetto a quanto mi ricordo io, sono emerse una serie di rivendicazioni che stanno all'interno di un campo che può essere ricondotto, molto assimilato, comunque omogeneo, con tante esperienze politiche europee che prima non erano lontanamente presenti. È l'elenco delle rivendicazioni, è un elenco complesso ed è un elenco veramente molto interessante che in buona parte sta tutto nel campo anticapitalista. L'espressione e la permanenza della linea del colore all'interno della società statunitense è abbastanza evidente, molto più mascherata nella nostra, ma esiste anche qua. E c'è poco da dire, è molto più mascherata rispetto alla nostra esperienza, rispetto a tutta una serie di differenze storiche e culturali, ma c'è. Ridiscutere e ridefinire la categoria di cittadinanza è assolutamente necessario, a partire dall'idea che appunto non c'è mai stata quella cittadinanza inclusiva europea, è un racconto anche quello falsato del tutto non veritiero, e riguarda moltissimo le pratiche e quel tipo di confronto. Non è che non esista all'interno di queste gerarchie, non sia presente, non le attraversi tutte anche la frattura di classe. Non è che non esiste che non attraversi tutta la composizione di queste problematiche anche l'idea cardine di che cosa sia il lavoro e di come funzioni l'intero sistema capitalista. È evidente che esiste ed è evidente che frammentare ulteriormente queste due categorie era necessario, soprattutto nel momento in cui in effetti, e con questo dobbiamo fare seriamente i conti, non stiamo ancora, anche se secondo me ci siamo abbastanza vicini, proponendo qualcosa che possa essere assimilato a quella narrazione lì, cioè quell'idea per cui era sufficiente autoriconoscersi all'interno di un'appartenenza di classe per poter dire e per poter voler partecipare alla trasformazione, alla creazione di un mondo differente. Il dato positivo è che questa narrazione plurale è molto più profonda, complessa e potenzialmente molto più forte di quella, perché è una narrazione che puoi includere dentro e in maniera stabile senza bisogno di grandi salti, quello che diceva Daniele, cioè sta dentro il campo della comprensione che dentro questo sistema non può funzionare che è così e funzionerà peggio, quindi anzi sarebbe meglio dire non può che funzionare peggio. Dall'altro lato quello che tu stai proponendo Antonio in realtà riguarda la ridefinizione radicale della sfera della politica, è molto più che un semplice termine, cioè quell'idea di cittadinanza europea che non c'è mai stata, non si è mai applicata, deve essere sostituita radicalmente da qualcosa e deve essere sostituita radicalmente dentro di nuovo un modello di riconoscimento collettivo. Sul piano, mantengo la stessa divisione che ha fatto Maura, sul piano della formulazione accademica direi che io sono assolutamente convinto che questo sta avvenendo ed avverrà, nel senso che i sistemi non sono eterni, questo sistema ormai non funziona, è evidente che non può proseguire così ed è evidente che sta cercando alternative nel campo dello sfruttamento, cioè mantenendosi dal punto di vista del piano accademico significa sicuramente non vivremo, anche a livello proprio di esperienza generazionale, in un sistema che è assimilabile a quello che è costruito nell'età neoliberale all'interno del modello dell'economia strutturata sui combustibili fossili, questo non significa che vivremo in un mondo migliore, proprio per niente. Dal punto di vista della proposta politica, tornando alla questione del metodo, tornando alla questione delle pratiche, però non lo so, mi appoggio sempre un po' qui all'idea accademica, tutte le esperienze di transizione si sono giocate nei sistemi sociali, si sono giocate sempre all'interno di momenti in cui il crollo della capacità di controllo da parte del potere si accompagnava anche all'esplosione di proposte di alternative, di pratiche materiali che si giocano su campi differenti. Questo a livello planetario, secondo me, è uno dei momenti che più si avvicina a quel tipo di narrazione e tutt'altro che è una fase in cui un cedimento sul piano del controllo sanitario biologico ha prodotto un arresto del sistema che deve essere rilanciato. È una dimensione in cui da un lato il sistema arriva a una naturale conseguenza che ha prodotto e costruito, dall'altro dovrà fare i conti con la necessità di escludere quantità sempre maggiore di popolazione e dovrà fare i conti con quello che è già in atto. Black Lives Matter è uno dei tantissimi casi e costantemente si ripropongono in tutto il pianeta di nuovi movimenti conflittuali che ragionano e ruotano intorno a questi stessi identici temi. Abbiamo ricominciato a discutere di alternativa al capitalismo, livelli e gerarchie dello sfruttamento, costruzione di modalità di conflitto, costruzione di pratiche alternative. Credo che in questa chiacchierata abbiamo acquisito degli attrezzi importanti per la nostra cassetta senza l'idea di fare una sintesi esaustiva però l'idea che l'ecologia decoloniale serva per sanare una frattura a volte dannosa tra ecologia da una parte e decolonialità dall'altra. L'idea che quello che oggi accade in alcune aree del mondo abbia le sue radici nella storia coloniale ma che torni con una rinnovata violenza di guerra, di conquista, di estrazione, di necropolitica in alcuni territori come il Brasile. Ciò che ci ha detto Maura rispetto all'importanza dello sguardo della colonia. Con lo sguardo della colonia possiamo vedere alcune cose, ovvero che i processi di valutazione del capitalismo si accompagnano a processi di svalutazione, processi violenti che l'altro lato dell'astrazione è un uso strumentale dell'esistenza umana. Lo sfruttamento e non riconoscimento per esempio del lavoro femminile migrante a cui ti riferivi. L'importanza di politicizzare per esempio quello che in Italia va sotto il nome di mutualismo, esperienze che tanti di noi abbiamo imparato a conoscere e fare durante la pandemia, anche grazie a chi per esempio come Genuno Clandestino altre reti di produttori ha fatto già a partire da molti anni. Anche Salvo credo ci abbia dato dei riferimenti importanti, queste tre categorie della frattura, della permanenza del metodo, l'idea del margine che è qualcosa che io penso noi dobbiamo allo stesso tempo abbracciare, cioè dobbiamo imparare a conoscere ma di cui in qualche modo facciamo già parte perché il margine si allarga anche a casa nostra ma è un margine non pacificato e penso davvero di poter chiudere con una considerazione sul climate camp che è dal punto di vista spaziare una buona metafora del margine. L'anno scorso abbiamo fatto il climate camp a Lido che è il margine di una città unica verso il mare devastato dal Mose, dalla grande opera Mose, un margine che ci parla dell'urgenza per esempio di porre fine al cambiamento climatico e all'inalzamento del mare e quest'anno siamo nel margine invece di una periferia industriale di una città che ha pagato uno scotto prezzo altissimo in termini di salute e di vita umane a causa della devastazione ambientale, dell'inquinamento, di politiche industriali nocive e guarda caso a farne le spese sono stati soprattutto gli operai e le operaie che hanno lavorato per decenni qua a Porto Marghera. Quindi noi stiamo popolando i margini di una città e sta noi soprattutto col climate meeting di dopodomani fare in modo che questi margini siano margini conflittuali che escano dalla città per parlare all'Italia, all'Europa e al mondo. Quindi davvero grazie a voi e grazie a tutte e a tutti dell'attenzione e di aver seguito il dibattito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.